è vero perché non la pensi sta succedendo, ah no ma c'ha le pinne la testa dobbiamo scendere sulla camberta molto piano, fa l'attacco bombardiero eccolo, eccolo il gabbiano, guarda guarda un po' l'ha sgangiata che eroe, per il cibo lui fa tutto ecco il ciambellone di ritorno fosse stato il coccodrillo, no però ho visto che è una ciambella ecco, guarda come si è messo rilassato ma mi sembra un po' troppo rilassato mi sembra un po' troppo rilassato come se... ecco vedi, non si vede manco più è affondato non c'è più e gli spaghetti fanno su e giù e i pomodori fanno su e giù e giù e le zucchine fanno su Uff! 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 ho chiesto una ciambella gigante e voglio una ciambella gigante pubblicità ingannevole e voglio una ciambella gigante come quella dell'insegna ehi questa è tutta un ingannevole piacere signore niente rimborsi e voglio una ciambella colossale avrò una ciambella colossale ok 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 ok